E' atterrato nella notte all'aeroporto romano di Ciampino l'aereo militare con le salme dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovaci uccisi in un attentato in Congo. Nel paese africano sono iniziate intanto le indagini dei carabinieri del ROS sul mandato della procura di Roma. Spinta dalle varianti continua a crescere la curva dei contagi. La provincia di Brescia da ieri è in arancione rafforzato, stessa misura in altri comuni lombardi e da giovedì in 14 comuni dell'Emilia Romagna. Intanto AstraZeneca annuncia per il prossimo trimestre il taglio del 50% sulle consegne. Ieri sera supervertice tra Draghi, ministri di diretta competenza, titolari di famiglia, cultura, agricoltura e capigruppo di maggioranza del CTS ha atteso un nuovo DPCM indirizzato ad una linea di rigore ma con interventi mirati. Le regioni premono per la riapertura dei ristoranti fino alle 22. Andata degli ottavi di Champions Amara per la Lazio all'Olimpico e Bayern Monaco batte Bianco Celesti per 4-1 ipotecando il passaggio ai quarti. Stasera l'Atalanta in campo contro il Real Madrid. Paura intanto per Tiger Boots. Il golfista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale ma non è in pericolo di vita. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del Tg La 7. Dunque come abbiamo sentito dai titoli sono rientrate ieri in tarda serata le salme di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci, il diplomatico e il carabiniere uccisi nel corso di un agguato in Congo. C'era il presidente del Consiglio Mario Draghi assieme ai ministri Guerini e Di Maio della difesa degli esteri ad accogliere appunto il rientro delle salme. Intanto vanno avanti almeno tre inchieste, quella della Procura di Roma, quella delle Nazioni Unite e quella del governo congolese per accettare la dinamica del tragico assalto. E' atterrato ieri sera alle 23.20 all'aeroporto romano di Ciampino l'aereo dell'aeronautica militare con le salme dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi insieme all'ora autista Mustafa Milambo nella Repubblica Democratica del Congo. Sull'aereo viaggiavano anche la moglie e le tre figlie dell'ambasciatore ad attenderlo, il presidente del Consiglio Draghi, il ministro degli esteri Di Maio e quello della difesa Guerini. I funerali di Stato sono previsti per giovedì mattina a Roma nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Oggi intanto si dovrebbero svolgere al Policlinico Gemelli le due autopsie. In mattinata il ministro degli esteri Di Maio riferirà in Parlamento mentre si sta cercando di definire la dinamica dell'attentato. L'ipotesi più probabile resta quella del rapimento finito male da parte di un commando di sei uomini che avrebbero prima sparato sull'autista di uno dei due veicoli, poi costretto gli altri a entrare nella foresta. Qui sarebbe cominciato uno scontro a fuoco con i ranger del parco intervenuti in soccorso. In questo scontro sono rimasti uccisi Attanasio e Iacovacci. Sarebbero invece stati rapiti tre cittadini congolesi, mentre Rocco Leone, vice direttore del programma alimentare mondiale a Kinshasa, ferito lievemente e adesso in buone condizioni. Il governo di Kinshasa accusa dell'attacco mortale ai ribelli Hutu, delle forze democratiche per la liberazione del Rwanda, che però negano il loro coinvolgimento. Non si esclude però nemmeno il coinvolgimento delle minizie ugandesi legate alla formazione jihadista e IDF. Adesso siamo ai dati sulla pandemia. Ieri c'è stato un calo del tasso di positività rispetto al giorno precedente, ma anche un incremento dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. La preoccupazione era ora forte riguarda la diffusione delle varianti del virus. In Italia le varianti spingono la diffusione del virus e preoccupano gli scienziati. Oltre il 30% delle infezioni è dovuto alla variante inglese. Verso metà marzo, hanno detto al Premier Draghi, gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità e del CTS sarà predominante in tutto il paese. I dati preoccupano. I numeri del bollettino di ieri segnano un aumento rispetto al giorno precedente. Più di 13.000 i nuovi positivi, il tasso di positività al 4,4%, il numero dei morti sempre su 356, quasi 100 più del giorno prima. Ma a preoccupare la pressione che è tornata forte sui pronto soccorso, tutti i segnali che fanno già parlare di terza ondata del Covid. E allarme in Lombardia. In Abruzzo, dopo le province di Pescara e Chieti, altri sei comuni finiscono in zona rossa. A Roma, in una scuola media, è stato riscontrato il primo caso di variante brasiliana. Zona arancione scuro da domani per 14 comuni dell'Emilia Romagna. In questo quadro c'è l'incognita vaccinico, la notizia piombata nel pomeriggio del nuovo taglio delle forniture da parte di AstraZeneca. Notizia data da un funzionario dell'Unione Europea all'agenzia Reuters. L'azienda farmaceutica anglo-svedese, che per il secondo trimestre si era impegnata a dare 180 milioni di dosi ai 27 paesi dell'Unione, ne avrebbe erogate nemmeno la metà. Proprio ieri in Italia il Ministero della Salute ha autorizzato l'utilizzo di questo vaccino, che prima era riservato agli under 55 alle persone fino ai 65 anni. Ed è soprattutto a Brescia che si registra un numero altissimo di contagiati a causa della variante inglese, una percentuale elevata soprattutto tra i giovani. Il governatore della regione Attilio Fontana ha istituito fino al 2 marzo la zona arancione rafforzata in tutta l'area del Bresciano, per l'appunto. Brescia oggi soffre come forse più di Bergamo a marzo scorso. Quasi 10.000 casi nelle ultime settimane. L'ultimo bollettino, aggiornato al 23 febbraio, ha segnato 506 nuovi positivi. In tutta Milano e provincia, un'area decisamente più grande, erano solo 26 in più. I medici di base raccontano di un aumento del contagio anche tra i giovani che si ammarano spesso prendendo il virus dai figli, lì dove la variante inglese è predominante almeno al 60%. E così il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha deciso di istituire, a partire da ieri pomeriggio fino al 2 marzo, in tutta la provincia bresciana, una zona arancione rafforzata. Chiuse tutte le scuole, compresi asili e università, bar e ristoranti, divieto di trasferimento nelle seconde case e smart working dove è possibile. Una cintura di contenimento che tocca sette paesi della Bergamasca e Soncino e poi giù fino a Cremona. Soffrono anche gli ospedali. Quello di Chiari ha già chiuso il reparto di pediatria e accorpato cardiologia e neurologia. Ma al di là delle restrizioni, da giorni i sindaci a partire dal primo cittadino, Emilio Del Bono, hanno chiesto un cambio di passo sui vaccini, soprattutto per gli ultraottanteni, visto che nemmeno l'1% in questi comuni ha ricevuto ancora la prima dose. Nell'RSA e tra il personale sanitario invece, dove il vaccino è arrivato, la curva del contagio è in controtendenza. La Regione ha assicurato che dirotterà le dosi nel Bresciano. In previsione delle nuove norme anti-Covid, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato ieri sera, a tardo pomeriggio per la verità, un vertice al quale hanno partecipato i ministri di tutte le forze di maggioranza e il Comitato Tecnico Scientifico che continua a predicare prudenza. Un costante e tempestivo coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni che formeranno la strategia del governo Draghi nella lotta contro la pandemia e superamento dei DPCM per adottare le nuove misure restrittive che quindi saranno contenuti in decreto di legge da convertire in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni. E' quanto emerso dalla riunione della cabina di regia tra ministri sui provvedimenti anti-Covid, istituita dal Premier, allargata a tutti i vertici della sanità italiana. Al termine dell'incontro di ieri sera, il coordinatore del CTS, Agostino Miozzo, spiega «Abbiamo rappresentato al Presidente Draghi i dati e i numeri dal punto di vista scientifico. Noi siamo prudenti, ma non abbiamo descritto una situazione di catastrofe imminente. Non abbiamo parlato di riaperture. Ce ne occuperemo in un'altra occasione. Venerdì ci sarà una nuova fotografia della situazione, poi vedremo». Al centro delle preoccupazioni del Governo e degli scienziati, soprattutto la diffusione delle varianti, che va tenuta sotto controllo con un monitoraggio continuo. E in questo quadro Mario Draghi deve mediare tra le diverse posizioni presenti all'interno del suo Governo, tra aperturisti e rigoristi, anche perché in vista c'è un nuovo provvedimento che dovrà sostituire il DPCM firmato da Giuseppe Conte e che è in scadenza il 5 marzo, ma non prima di venerdì, ovvero dei nuovi dati del CTS. Il Premier, intanto, con il decreto di lunedì, ha confermato la linea del rigore, accentuando le misure restrittive nelle zone rosse e rinnovando il divieto di spostamento tra regioni. Matteo Salvini comunque insiste a chiedere riaperture e nella mattinata di ieri vede il Presidente del Consiglio per un confronto, al termine del quale annuncia «abbiamo parlato di riaperture, sul ritorno alla vita siamo sulla stessa linea, noi siamo per la tutela della salute, ma con interventi mirati». Su questo punto Nicola Zingaretti è più prudente. «Tutti siamo per le riaperture, dice, però la disperazione non va cavalcata con farsi promesse. Figuriamoci se non siamo d'accordo sulle riaperture. Anch'io lavoro alle riaperture, ma per sempre». Si è dichiarato colpevole uno dei tre accusati per l'omicidio della giornalista maltese, Daphne Caruana Galizia, avvenuto nel 2017. L'uomo ha anche fornito importanti informazioni agli inquirenti. Si chiama Vincent Muscat, 58 anni, l'assassino reo confesso di Daphne Caruana Galizia, la giornalista investigativa uccisa a Malta il 16 ottobre del 2017. Muscat, che era stato arrestato con due compici un paio di mesi dopo il delitto, è un killer professionista e da qualche tempo aveva iniziato un percorso di collaborazione con la polizia maltese, svelando in retroscena anche di un altro omicidio avvenuto sempre nell'isola nel 2015, quello di un avvocato e per il quale è stato graziato proprio ieri dal governo maltese. E anche la sua ammissione di colpevolezza nella vicenda Caruana non è priva di conseguenze. 15 anni, infatti, è la pena a cui è stato condannato e alla quale verranno sottratti i tre anni già passati in carcere, più il pagamento di un terzo del risarcimento chiesto dalla famiglia della donna, della giornalista che, lo ricordiamo, faceva parte fra l'altro del gruppo di giornalisti investigativi che svelò i Panama Papers. Ma per ottenere uno sconto di pena così importante, 15 anni, Muscat non ha solo ammesso le proprie responsabilità, ma ha anche fatto il nome di coloro che avrebbero fornito la bomba che uccise Daphne. Tre uomini, tre pregiudicati, immediatamente arrestati, sempre ieri, dalle forze dell'ordine maltesi. I tre hanno precedenti legati alla mafia siciliana e libica, ma non sono i mandanti del delitto. Per quelli bisogna risalire ancora più su, alla figura di Jorgen Fennec, ricco uomo d'affari arrestato due anni fa, mentre tentava di scappare a bordo del proprio yacht e che tuttavia ha sempre negato ogni coinvolgimento nella vicenda. È scomparso all'età di 101 anni, Lawrence Ferlinghetti, pittore, scrittore, editore, ma soprattutto, insomma, figura storica del cosiddetto movimento di pensiero, definito Beat Generation. Quante volte si dice l'ultimo di questo o di quell'altro? Stavolta, però, con Lawrence Ferlinghetti è proprio così, l'ultimo della Beat Generation, di quel gruppo, cioè di amici, poeti, scrittori, viaggiatori, precursori, pionieri di una modernità non contaminata né contraffatta, di cui si è parlato in definitiva più alla voce comportamenti sociali e sessuali che a quella di letteratura. E in certo senso, storie e storielle, poco culturali a parte, forse era giusto così, perché le loro opere, le loro poesie, i loro romanzi con la vita hanno sempre fatto tutt'uno, smettendo e smontando quelli convinti che l'arte possa nascere solo dall'arte. Rispetto ai vari Kerouac, Casa di Barrox e tutti gli altri, Ferlinghetti era il meno forse nato il più tranquillo e la morte, sopraggiunta oltre i cento anni, sembra star lì a confermarlo. Per tutti è stata una specie di punto fermo, di ancora alle cose pratiche della vita. Lui che è figlio di immigrati, arrivati agli sgoccioli del secolo, il padre era di Brescia, poi adottato, aveva inaugurato nel 1953 la rotta verso San Francisco in un clima ben più aperto e libero di quello di New York. Lì San Francisco aveva aperto la sua famosa libreria, la City Lights. Lì aveva cominciato a pubblicare con l'omonima casa editrice le poesie sue e dei suoi amici, compreso l'urlo di Allen Gisberg, che nell'America ancora molto puritana e fresca del rapporto Kinsey sul comportamento sessuale, fece saltare in molti sulle sede, compresi diversi intellettuali new yorkesi, con denunce e relativo processo per oscenità, ma anche poi conseguentemente con la tanta pubblicità che dalla cosa derivò. Quando venne a Roma, una decina di anni fa, per una mostra dei suoi dipinti, si descrisse come un altro strano animale che fa da vagabondo sulla superficie della terra, un vagabondo nella più pura tradizione americana, forse che tanto ha fatto, strafatto e anche seminato. E adesso lo sport con la pesante sconfitta partita dalla Lazio nell'andata degli ottavi di finale Champions League all'Olimpico contro il Bayern Monaco, 4-1 il risultato per la formazione tedesca, come viene definita campione di tutto, e poi per parlare anche dell'impegno che attende questa sera l'Atalanta a Bergamo contro il Real Madrid. L'aveva immaginata diversa la Lazio la sua nottata di Champions contro i campioni d'Europa e del mondo del Bayern Monaco. Una sconfitta pesantissima e con pochi margini di recupero per il ritorno in terra tedesca, che ha però il suo peccato originale nell'assurdo errore con cui Musacchio, dopo neanche nove minuti, ha spianato la strada a un certo Robert Lewandowski. Il gol subito ha fatto saltare ogni piano, ma anche la testa degli uomini di Simone Inzaghi, divenuti vittime sacrificali del gioco avvolgente con cui i bavaresi hanno avuto vita facile. Trovando il raddoppio a metà primo tempo, sull'affondo di Davis, Goretzka ha servito il 17enne Musiala, che dal limite non ha dato scampo a Reina, il quale due minuti più tardi ha respinto di piede la conclusione ravvicinata di Lewandowski. Ma dopo che Ciro Immobile si era visto ribattere in angolo la sua conclusione, è giunto il secondo grave errore della difesa laziale, con Patrick che ha spianato la strada a Coman. Pronto il tiro dell'ex Juventino, ribattuto da Reina, proprio sui piedi di Sané, che da due passi ha fatto centro. Ancora più traumatico per la Lazio, ritorno in campo dopo il riposo. Al secondo minuto della ripresa, lo stesso Sané, al termine di una lunga volata, ha crossato al centro una palla che a Cervi ha infilato nella propria porta. Il poker del Bayern ha dato però una scossa ai Bianco Celesti, che grazie alla bella percussione centrale di Correa hanno realizzato il gol della bandiera. Lo stesso attaccante argentino si è visto poi respingere da Neuer il tiro del possibile 4-2. Ultimo vero sussulto di un match terminato con il totale controllo del Bayern, che ha messo più di un'ipoteca sul passaggio ai quarti di finale. E stasera sarà la volta dell'Atalanta, che ospiterà il Real Madrid in una sfida affascinante. Di fronte due tecnici amici, quando Zinedine Zidane furoreggiava in campo con la maglia della Juventus, Gian Piero Gasperini allenava già la primavera bianconera. Ma questa sarà un'occasione forse irripetibile per i bergamaschi, contro un'avversaria decimata dalle assenze. Ben 9 gli indisponibili, tra i quali figurano nomi celebri come Benzema, Sergio Ramos, Marcelo, Azare e Valverde. Ma Gasperini preferisce spostare il tiro. È chiaro che abbiamo ambizione, ma nello stesso tempo ci sentiamo anche nella condizione di dover fare il massimo delle nostre possibilità e questo è già, secondo me, un bel vantaggio. Bene, ora parliamo di Tiger Woods, il campione, l'icona del golf mondiale alla ribalta per un incidente occorso nei pressi di Los Angeles. La sua macchina è precipitata dopo aver evidentemente perso il controllo da parte della sua guidatura. I Tiger Woods in una scarpata per il golfista la frattura di entrambe le gambe è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico, riuscito, assicura il suo team, è cosciente e pronto a intraprendere il recupero. Drammatico incidente per Tiger Woods. Erano circa le 7 del mattino a Los Angeles, le 17 da noi, quando il grande golfista si è ribaltato con la sua auto invadendo la corsia opposta. L'incidente non è riguardato altri mezzi. I vigili del fuoco, i paramedici per liberarlo hanno dovuto tagliare le lamiere dell'auto. Woods ha riportato molteplici fratture alle gambe ed è stato subito operato. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Secondo il vice sceriffo della Contè in cui si trovava Woods, il campione sarebbe stato molto fortunato a sopravvivere al pauroso incidente. Tiger indossava la cintura e questo probabilmente gli ha salvato la vita. Dalle prime ricostruzioni pare che la causa più probabile dell'incidente sia stata all'alta velocità del mezzo guidato dal campione. Ci sarebbero anche delle testimonianze secondo cui Woods avrebbe lasciato l'hotel in cui alloggiava a grande velocità agitato e impaziente. Woods era in dubbio per il master di Agasta dopo l'ennesimo intervento alla schiena. L'ex numero uno del mondo non è nuovo alle cronache extrasportive. Nel 2009 ha avuto un altro incidente d'auto. Nel 2017 fu arrestato perché alla guida era in stato confusionale a causa di un mix di medicinali. Mai dare per finito Tiger. Questo è il tweet dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama grande appassionato di golf. Obama augura al grande campione una rapida ripresa. Anche Trump ha fatto i suoi auguri a Woods ed anche altri campioni dello sport tra cui l'ex di Woods la sciatrice Lindsley Vaughn con cui Tiger ha avuto una relazione durata più di tre anni. Insomma incoraggiamento e auguri in perfetta par condicio per Tiger Woods e naturalmente anche noi gli auguriamo di riprendersi e tornare sul green a farci vedere i colpi di quel grande campione che è. Dopo di noi il traffico di autostrade per l'Italia con Patrizia Iorio poi torna Paolo Sottocorona per le informazioni sul metro e il dibattito di Omnibus con Alessandra Sardoni di studio. Grazie e buona giornata.